Ciao, sono Luca Manelli e in questo breve video voglio spiegarti un metodo per poter impaginare la nuvola di punti all'interno dei layout di Archicad. Una volta importata la nuvola di punti all'interno di Archicad, la nuvola la puoi visualizzare in pianta e la puoi visualizzare nelle sezioni degli alzati. Il problema sta nel fatto che se io, ad esempio, vado a prendere questo alzato e lo voglio andare a impaginare all'interno di un layout, per cui la prima cosa che devo fare è quella di andare a creare una vista e successivamente vado a prendere la vista e la posizione sul layout, puoi vedere che la nuvola di punti non viene visualizzata. Per poter impaginare la nuvola di punti all'interno del layout dobbiamo procedere in un altro modo. Per cui ora vado a cancellare anche la vista dell'alzato, ritorno a visualizzare la nuvola di punti in 3D e proprio dalla finestra 3D che devo andare a gestire la visualizzazione della nuvola di punti in modo tale da poterla poi impaginare all'interno dei layout. Per prima cosa vado in pianta e vado ad attivare la sezione 3D. Una volta attivata la sezione 3D non devo far altro che andare a posizionare un piano di taglio in modo tale da decidere quale parte della nuvola di punti voglio visualizzare. Nel mio caso voglio andare a visualizzare questo prospetto, per cui ho posizionato un piano di taglio in questa posizione. Posso andare anche ad effettuare una limitazione del prospetto, per cui vado a posizionare un piano di taglio anche nella parte posteriore ed eventualmente anche sui lati. Una volta fatte queste scelte torno all'interno della finestra 3D e vado a visualizzare la sezione 3D. Questa è la visualizzazione in prospettiva. Ora posso spostarmi a visualizzare una sonometria, sempre con i piani di taglio, e all'interno delle impostazioni in proiezione 3D vado a impostare la visualizzazione di un fronte. Con la telecamera decido qual è il fronte, nel mio caso è il fronte con un azimut di 270 gradi e poi vado a confermare con ok. Questo è il prospetto che ora andremo a impaginare. Per andare a eliminare questa fascia grigia che abbiamo nella parte inferiore possiamo procedere andando all'interno degli stili 3D e andando a definire per lo sfondo uno sfondo magari totalmente bianco. Fatto questo abbiamo il prospetto pronto. Ora vado a creare la vista. La parte importante nel salvataggio della vista è tutto ciò che viene riportato all'interno del pannello solo 3D. Mi raccomando deve essere generata all'interno della finestra 3D. Puoi scegliere lo stile, nel nostro caso lo stile 3D è impostato su colorato semplice. Le altre impostazioni non vengono prese in considerazione e ora vado a creare il fronte. Mi sposto poi all'interno del layout e vado a impaginare il fronte all'interno del layout. Una volta impaginato lo puoi gestire come un qualsiasi altro disegno per cui lo puoi eventualmente andare a ritagliare e andare a posizionare nella posizione corretta.